ed ho lasciato il flash acceso non importa questa è la mia famiglia e tra cinque minuti saremo in volo verso la grecia mi spiego ho iscritto la mia famiglia il più grande concorso mai lanciato da wizard la famiglia volante ed abbiamo vinto l'unica cosa che restava da fare era chiamare tutti i miei cugini i loro bambini fratelli sorelle eppure mario ed invitarli a riempire un aereo wizard diretti verso un'esperienza indimenticabile prima che ce ne accorgessimo eravamo in volo verso corfu abbiamo imparato moltissimo della storia della cultura e della cucina ma ancor più l'uno dell'altro ma dov'è che gli italiani si sentono veramente a casa a tavola è ovvio abbiamo accettato la sfida culinaria dei nostri ospiti greci ed il mio adorabile nipote fernando si ha giudicato il premio di miglior chef di souvlaki della serata è stato bellissimo vedere la mia famiglia unita come non mai ora il mio telefono è pieno delle nostre foto ed il cuore colmo di ricordi dei miei cari grazie Wizz Air